Buongiorno, sono su Montespecie, non so se si sentono l'audio, perché c'è un vento fortissimo. Le tracime. Non riesco a tenere neanche il tavolo in mano, questi sono i bambini, ora passiamo al cristallo. La croda rossa e la croda del becco. Questa è il picco di Wallandro. Tutte le Alpi di confine con l'Austria. Questa è il Paterno. Questa è il Paterno. Questa è il Paterno.